Parliamo di Carobollette, una situazione sempre più drammatica. Cosa avete fatto e cosa farete? Allora, per la situazione Carobollette abbiamo fatto una manifestazione, anzi siamo stati invitati a una manifestazione a Bageria giorno 4 ottobre dove ha partecipato anche il sindaco di Bageria, si è fatto portavoce del popolo bagherese alle istituzioni regionali e nazionali e al prefetto di Palermo per trovare delle soluzioni al più presto possibile. Per manifestare il vostro dissenso e la vostra paura appunto del futuro avete organizzato una manifestazione, di cosa si tratta? E allora, a Mazzara hanno organizzato un'altra manifestazione per giorno 18 dove i colleghi, i cittadini, i lavoratori bagheresi e palermitani ci uniremo a loro per dare supporto a questa manifestazione. Giorno 25 ottobre alle ore 10 a Palermo partirà un'altra manifestazione da Piazza Polettiama che arriverà a Piazza Pretoria dove chiederemo al sindaco un tavolo di discussione immediato per condividere quelle che sono le soluzioni per scongiurare questo caro bollette luce e gas e di farsi portavoce col governo regionale e il governo nazionale di quelle che sono le nostre ipotetiche proposte per trovare le soluzioni. Una situazione drammatica che equivale a una perdita economica ma anche di capitale umano? Una situazione drammatica che comporta perdita di capitale umano. Ad esempio ci sono stati dei ragazzi pizzaioli, pasticceri, cuochi che hanno scelto di andare a lavorare chi in Germania, chi in Francia, chi in Inghilterra perché non vedono futuro in Italia. non vedono futuro per le loro famiglie, per i loro figli, allora preferiscono emigrare più che rimanere qua in Italia senza un futuro. Chi vive in mezzo ai lavoratori, chi vive in mezzo alle famiglie, chi vive in mezzo agli imprenditori veramente imprenditori che si stanno indebitando, famiglie che non hanno più la possibilità di pagare i muti, i finanziamenti, veramente persone che piangono perché non possono più comprare i beni di prima necessità perché sono quelli che sono aumentati. Il pane, la pasta, lo zucchero, l'olio sono i principali alimenti che sono aumentati. Veramente le persone sono veramente al collasso. Io faccio un appello alle istituzioni, ai sindaci di tutta Italia, ai governatori regionali di tutta Italia, al governo nazionale di riunirsi, unire le proprie capacità, unire le proprie forze e immediatamente trovare le soluzioni per scongiurare questa gravissima crisi che c'è in corso, per evitare tantissime aziende che chiudono, per evitare tantissimi lavoratori che rimangono senza lavoro, per evitare tantissimi cittadini veramente che non possono fare più la spesa. Io mi appello alle più alte cariche dello Stato italiano.